Buongiorno family e benvenuti in questo nuovo video Allora, questo è un altro video che mi è stato richiesto su Instagram e vi ho accontentati e l'ho ciato Però vi volevo dire una cosa Avete notato che ho questo, diciamo, strovinaccio sul lavello Ce l'ho per quanto uso l'acqua Cioè, per non far andare l'acqua vicino alle piastrelle Che dopo, civola vicino al top E si possa rovinare Per non far succedere questo Io uso uno strofinaccio solo per questo Ne ho due uguali Uno lavo e uno metto In modo che non fa andare l'acqua lì dietro Detto ciò, io ora vi lascio al video Spero che vi piaccia E ci vediamo prossimamente Un bacio, ciao! 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 Un bacio! Un bacio, ciao! Un bacio, ciao! Un bacio! Un bacio, ciao! Un bacio, ciao! Un bacio, ciao! Un bacio! Un bacio, ciao! Un bacio! Un bacio, ciao! 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 Un bacio, ciao!